Il momento clou del congresso nazionale della SIPSE della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale quest'anno è stata la presentazione di una consensus molto importante incentrata sul ruolo della vitamina D in età pediatrica. Noi ne parliamo col professor Giuseppe Saggese, direttore della Clinica Pediatrica all'Università di Pisa e coordinatore scientifico proprio di questa consensus che ha visto riuniti la SIPSE, la Società Italiana di Pediatria e la SIPSE. Allora professore, innanzitutto una brevissima introduzione. Perché avete sentito il bisogno di realizzare questa consensus? Cos'è che mancava? Cos'è che andava puntualizzato? Beh diciamo che soprattutto in questi ultimi anni ci sono stati studi, nuovi studi, che meritavano un approfondimento anche perché alcuni di questi studi sono sempre circondati da un margine di incertezza e quindi era giusto fare un approfondimento sulle varie tematiche della vitamina D e anche perché il pediatra usa questo prodotto diciamo in maniera giornaliera e quindi era anche utile dare delle indicazioni abbastanza precise e specifiche al pediatra. Benissimo, allora entriamo subito nel vivo della questione. Uno dei momenti chiave nella vita del bambino è il primo anno di vita. Ecco in quest'anno in cui si forma un po' tutto, no? Della livello fisico e anche già a livello psichico, ecco qual è il ruolo della vitamina D? Dunque è un ruolo molto importante direi che di tutti i periodi della vita il momento in cui sicuramente si deve fare una profilassi con vitamina D è il primo anno di vita. E questo perché l'incidenza della carenza estrema di vitamina D, cioè il rachitismo, avviene proprio durante il primo anno di vita. E poi è importante anche per tante altre funzioni. Per quanto riguarda la carenza di vitamina D nel primo anno di vita, è molto importante la profilassi perché, ad esempio, l'allattamento al seno, il latte materno, che diciamo è un prodotto perfetto, è un prodotto perfetto tranne che per la vitamina D, perché non contiene le quantità necessarie di vitamina D. Abbiamo detto che il primo anno è il periodo di maggiore incidenza del rachitismo e anche il periodo in cui avviene un'acquisizione, inizia l'acquisizione della massa ossea, abbiamo la massima crescita dell'individuo perché durante il primo anno di vita si cresce 22 centimetri, poi va sempre a diminuire la velocità di crescita. Quindi diciamo che lo scheletro dell'individuo durante il primo anno è il periodo, diciamo, più sensibile. E la vitamina D è uno dei prodotti, è uno dei fattori principali per una crescita armonica dello scheletro. Quindi ecco l'importanza della vitamina D nel primo anno. Detto il latte materno contiene scarse quantità di vitamina D, ma anche le formule per il lattante, cioè il latte artificiale, per quanto riguarda il contenuto di vitamina D, facendo dei calcoli, vediamo che viene a coprire il fabbisogno solo quando il bambino ne prende, quando arriva a pesare i 5-6 kg, cioè quando è al divestamento, per cui diminuisce da 4 pasti, passa 2 di latte, ecco che diminuisce fortemente il contenuto di vitamina D. Questi sono i motivi per cui durante il primo anno di vita bisogna fare la profilassi con vitamina D. Allora, quale vitamina D, visto che appunto la vitamina D subisce una serie di metabolizzazioni e ha poi a sua volta dei metaboliti, quale vitamina D è giusto somministrare? Dunque, questa è una domanda molto importante perché ha un aggancio pratico notevole. Allora, come giustamente lei ha rilevato, esistono questi metaboliti, ma i metaboliti sono dei prodotti già attivati. Noi, quando si fa la profilassi, vogliamo ripristinare e mantenere quelli che sono i depositi dell'organismo di vitamina D, che poi l'organismo idrossila verso i vari metaboliti secondo le proprie necessità. Quindi noi dobbiamo fornire la vitamina D come tale, che siano prodotti vitamina D2, vitamina D3, generalmente sono vitamina D3, però dobbiamo fornire la vitamina D come tale. Molto bene, a quali dosaggi, professore? E in quali forme, perché ci sono appunto formulazioni liquide, solide, quale consiglierebbe? Allora, io intanto, il dosaggio è un dosaggio riconosciuto da tutte le società scientifiche e organismi internazionali. La dose di vitamina D da somministrare nel primo anno è pari a 400 unità di vitamina D al giorno. Per quanto riguarda le formulazioni, io consiglio sempre la somministrazione in gocce, perché è una somministrazione che si presta molto bene, volume ridotto, si fa il calcolo rapidamente, e quindi direi di somministrare queste 400 unità di vitamina D, preferibilmente con i preparati in gocce. Senti, professore, visto appunto che parliamo di bambini in tenerissima età, ci possono essere dei problemi di tossicità, di sovradosaggio? Ecco, che messaggio possiamo dare alle mamme in questo senso? Beh, io direi che se il pediatra, come generalmente avviene, è attento, insomma, alle dosi da somministrare, non ci sono assolutamente problemi. Ed è dimostrato che 400 unità sono safe, cioè non danno alcun problema di intossicazione da vitamina D e assicurano un effetto, diciamo, sicuro su quello che è lo sviluppo dello scheletro e oggi, più modernamente, probabilmente anche proteggono per l'insorgenza di alterazioni legate alle cosiddette funzioni extrascheletriche della vitamina D, sulle quali ancora oggi non abbiamo dei dati certi, però direi che il pediatra, alla luce degli studi più recenti, deve tener conto e quindi è probabile che in alcune situazioni legate a disturbi extrascheletrici, tipo, non so, le infezioni ricorrenti delle prime vie respiratorie, può darsi, è probabile, secondo alcuni studi, che la vitamina D, non come cura unica, ma possa essere un cofattore importante nel trattamento e la prevenzione di queste forme. Un beneficio aggiuntivo, insomma. Certo, un beneficio aggiuntivo di cui il pediatra, che come abbiamo rilevato nella discussione durante la consensus, deve usare sempre molto buonsenso e procedere secondo quelle che lui ritiene che siano le linee, diciamo, più pratiche e più utili per il bambino.